La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 3 gennaio al 30 giugno 2022, anche RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI News 24 e le programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. In fase di risintonizzazione, sarà possibile scegliere la programmazione regionale di proprio interesse. Informazioni specifiche per la propria regione saranno fornite nel corso dei programmi regionali radiofonici e televisivi. Per maggiori dettagli, consultate il sito RAI.it